Tutto è partito dal maxi sequestro di 275 kg tra ascisce e marijuana messo a segno dalla squadra mobile di Rimini il 3 dicembre del 2020 in un capannone nell'area industriale al confine tra Rimini e Spadarolo. In quell'occasione finirono in manette tra albanesi di 26, 35 e 39 anni. Scavando tra i contatti degli arrestati, gli uomini della mobile diretti dal vicequestore aggiunto Mattia Falso sono arrivati ai 5 cittadini albanesi destinatari di altrettante misure cautelari in carcere eseguite questa mattina. Per gli investigatori sono gravemente sospettati di aver partecipato all'organizzazione e alla gestione di un ingente traffico di sostanze stupefacenti dall'ottobre 2020 ad oggi. Figura di spicco della banda un 29enne albanese Dimit Armani, residente a Rimini, che ufficialmente lavora come muratore. Era lui secondo gli inquirenti che dirigeva il traffico di stupefacenti che dalla Spagna arrivava nel sud Italia per poi approdare in città. Come i 400 kg di hashish che i polizioti della mobile di Rimini hanno intercettato, scovato e sequestrato in provincia di Bari lo scorso 3 marzo. Il 29enne, presunto capo della banda, si era recato personalmente in Puglia per trattare l'ingente partita di hashish del valore di oltre 2 milioni di euro, nascosta in cassette di cipolle per camuffarne l'odore. La droga sarebbe stata stoccata nelle campagne baresi in attesa di essere trasportata a Rimini su un furgone con doppio fondo per la successiva vendita all'ingrosso. Quando questa mattina i poliziotti della sezione antidroga hanno arrestato il muratore albanese, all'interno del garage della sua auto, hanno trovato ulteriori 15 kg di marijuana. In manette sono finiti altri tre sue connazionali, Valilikai, 30enne, residente a Rimini, Vildan Alla, 31enne, residente a Coriano e Fatmir Sinani, 54enne, residente a Misano. Ancora ricercato il componente più giovane della banda, Suleyman Mani, 21 anni, che ora si troverebbe in Albania. È stata un'attività molto intensa e molto importante, sia per la caratura dei personaggi, di uno in particolare, soprattutto per le ingenti quantità di sostanze sufficienti sequestrate. L'indagato principale è un soggetto che per noi aveva molti contatti ramificati, sia sul territorio nazionale che all'estero. Presumibilmente nel luogo di origine, quindi in Albania e forse anche in Spagna.